Alla fine l'incontro con il prefetto di Vibo Valencia c'è stato. Nessuna soluzione per gli ex tirocinanti del parco regionale delle Serre, ma la rassicurazione di un impegno preciso. Convocare il più presto i rappresentanti regionali del territorio e con loro individuare una strada comune che possa permettere ai 49 ex lavoratori di poter proseguire la loro attività. Chiediamo un rinnovo a più presto perché siamo a mezzo di una strada. Siamo 49 famiglie e non ci possono abbandonare così. Noi non ci arrendiamo. Siamo qui a manifestare un diritto sacrosanto che è quello del lavoro, visto un lavoro che spesso ci è stato negato dicendoci che il nostro contratto era semplicemente un contratto di tirocinio. Ma noi non capiamo come mai, visto che abbiamo lavorato come dei veri e propri lavoratori, oggi ci viene negata la possibilità che invece nel parco del Pollino e nella zona di San Giovanni in Fiore a persone tirocinanti come noi la regione Calabria ha posto particolarmente attenzione e oggi da quello che sappiamo stanno continuando a lavorare. L'incontro con il rappresentante territoriale del governo dopo la plateale protesta di un gruppo di ex tirocinanti saliti sul tetto dell'edificio del Parco delle Serre, un modo per richiamare l'attenzione delle autorità preposte. E così stamattina l'incontro con il prefetto il quale si è impegnato a seguire da vicino la vicenda.